ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un altro tutorial oggi parliamo di due piante che sono fantastiche soprattutto per i principianti ma non solo queste piante hanno una particolarità in comune vi faccio vedere questo è un microsorum teropus mentre l'altra è una nubias nana che è una delle piante che preferisco perché le foglie si mantengono un po più piccole rispetto alla classica a nubias quindi vi dicevo la cosa in comune che hanno che crescono diciamo in quasi tutte le condizioni che possiamo avere i nostri acquari non hanno bisogno neanche di una luce che sia troppo forte e l'altra cosa importante che hanno in comune che non potete piantarle direttamente nel substrato però devono crescere su qualcosa per sopravvivere potete usare qualunque decorazione una pietra un pezzettino di legno qualunque decorazione che potete inserire dentro l'acquario quindi vi faccio vedere un modo semplice per farle crescere su queste decorazioni quindi vi serve del filo di nylon delle forbici e chiaramente qualche decorazione per la nubias userò una una pietra la nubias in questo caso è abbastanza grande quindi la divido in due creo due piantine totalmente indipendenti l'importante è lasciare una parte di radici in entrambi i lati quindi prendiamo un po di filo decidiamo la posizione della decorazione dopodiché poggiamo la pianta sopra mantenendola con una mano solo dalle radici con l'altra mano il filo lo andiamo a torcigliare attorno alle radici della pianta cercando di evitare di prendere le foglie dopodiché chiudiamo il tutto con dei piccoli nodini io ripeto questo procedimento più di una volta per assicurarmi che la pianta si mantenga nella posizione ideale dopodiché la pianta nel tempo creerà nuove radici e si attaccherà perfettamente alla decorazione ci sono persone che usano degli elastici per per fare questo però anche l'occhio vuole la sua parte questo è il mio punto di vista ragazzi quindi sono super anti estetici secondo me e poi nel tempo si rovinano perdete diciamo perderanno dei pezzettini nell'acquario quindi io vi consiglio il filo di nylon perché in più è trasparente quindi non si nota per niente con il microsorum funziona esattamente allo stesso modo quindi attorciamo il filo attorno alle radici mi raccomando e lo fissiamo bene con dei piccoli nodini queste decorazioni sono molto carine secondo me è importante avere un acquario che è quasi come un piccolo paesaggio quindi possiamo sbizzarrirci e possiamo essere soprattutto molto creativi perché non ha senso avere tanti acquari però con piante sparse qua e là senza senso è meglio avere secondo me un acquario che sia bello da vedere in casa ragazzi guardate che sono carine quindi vi faccio vedere il risultato da una parte abbiamo la nubia e dall'alto sulla destra mentre sulla sinistra abbiamo un insieme di microsorum teropus il microsorum noterete che per moltiplicarsi creerà delle piccole piantine sulle foglie queste piantine già sono indipendenti quindi volendo potete staccarli e decorare un'altra parte del vostro acquario per quanto riguarda l'ubicazione di queste piante parlando diciamo di creando una certa armonia nell'acquario io vi consiglio di ubicarle nella parte o centrale del vostro acquario o nella parte finale nello sfondo il cosiddetto background perché anche se crescono lentamente tendono a crescere quindi se le ubicate nella parte frontale del vostro acquario dove normalmente posizioniamo piantine piccole una volta cresciute non permetteranno alla luce di arrivare a queste piantine poi ci sono persone che fanno acquari solo con queste piante vanno benissimo dipende dal vostro gusto quindi ragazzi spero che questo video sia stato utile per qualcuno soprattutto per i principianti se non siete ancora iscritti potete iscrivervi al canale ci vediamo presso con altri aggiornamenti grazie ciao